Bene, per questa edizione di Telesveva Sport è davvero tutto, grazie a Luca Guerra. Grazie a te Fabrizio. Prima della chiusura però c'è una notizia di calciomercato che è arrivata proprio in questi ultimi minuti. Un ingaggio, un arrivo da parte del Barletta, del centrocampista Geronimo Viscovic, che quindi vestirà bianco-rosso. È un argentino, classe 1987, arriva dal San Luca, girone I di serie D. Viscovic però in carriera ha giocato davvero in tante nazioni, è partito in Argentina dal Colón, appunto dalla sua nazione. È passato anche per Bosnia e Polonia, è stato portato poi nel 2019 in Italia e adesso quindi rappresenterà i bianco-rossi nella seconda parte di stagione. Innesto di esperienza per Francesco Farina.